Grazie a tutti Grazie a tutti In particolare ringraziamento va al professor Ezio Catanzariti, che ha accettato di fare da cameraman e che vediamo all'opera nel suo inconfondibile stile in un filmato d'epoca del secolo scorso. Il professor Ezio, dopo pochi minuti giustamente insoddisfatto di come i suoi colleghi stavano giocando, non se l'è più sentita di riprendere la partita e ha pensato bene di riprendere solo i suoi piedi ben più degni per i successivi 50 minuti, e di cui vi mostriamo solo una breve sintesi. Scusami, Tristano, ho sbagliato io! Vai! Vai! Vai, 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 vai! Grande Paolo! C'è Rodolfo, c'è Rodolfo! Tira! Vai! 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 Vai!